bellezze buongiorno benvenute bentornate sul mio canale e benvenute in un nuovo blog noi stiamo per uscire stiamo per andare in piscina perché stamani i bimbi hanno nuoto e ovviamente vi portiamo con noi devo sprecarmi perché già abbastanza tardi fortunatamente ho già preparato tutto ieri sera il loro zaino le loro cosine così ora ci mettiamo le ciabatte e andiamo zaino cellulare borsa custodia sacchetti che ieri abbiamo fatto la spesa e dobbiamo rimetterli macchina e ovviamente mascherina pronti partenza e via giuno il tuo ok tu lo lascio su alla fobia del del vetro giù chris non lo gradisce con calma le braccia ok stellina pancia in su con la battuta delle gambe stupino vai a prendere vai prendi la tavoletta e vai dai stupino vai a prendere vai prendi la tavoletta e vai dai lezione di nuoto finita e mi è stato bravissimo vero amore sei stato super bravo a fare lo stile libero la rana chris un po meno ora aspettiamo due minuti e ordiniamo il pranzo chris hai fame tanta ma cosa vorresti mangiare la pizza ora arriva è la mamma l'ha già ordinata come no eccola la pizza allora questa metà è con lo stracchino ed è per me mentre l'altra metà è con i wurstel ed è per loro ci sono anche le patatine e il melone per me buon appetito la pizza questa è la mia questa è la tua ora te la metto nel piattino eh questa è la mia questo è la mia questa è la mia questa è la mia mamma Cecco mi tocca Cecco toccami che mamma non vede non fa la nanna con me? vieni facciamo un pochino di un'ora stai ad avere il sole guarda questo com'è bravo è in acqua fa il pesciolone ci ha raggiunti anche Nicola ecco che si è subito preso una testata sui denti fra un po' ti serve la dentiera Chris continua a dargli le testate e lui le prende tutte è vero? sì ora ripeschiamo Amy dall'acqua e andiamo a casa perché Chris deve fare il pisolino e Nico alla riunione di condominio Amy Amy sentiti chiama anche Chris andiamo? dai esci che ti asciughi chiamalo anche te eccoci tornati a casa io mi sono cambiata così più tardi faccio mezz'oretta di tapirulan loro li ho già addocciati lui sta giocando Chris sta dormendo e adesso preparo un barattolino con del sale di Epson per la nonna di Nico perché mi ha fatto vedere prima che ha le caviglie abbastanza gonfie probabilmente dovuto al caldo e e le ho detto che le avrei fatto arrivare tramite Nico un po' di sale di Epson così tiene i piedi così tiene i piedi in acqua per 20 minuti e le si sgonfiano un pochino li li ho messi qua dentro perché avevo questo barattolino qua in bagno prima conteneva la maschera questa qua la banana della Garnier poi uno scrub al caffè che avevo praticamente finito ora la mando a lei e non sprechiamo nulla Nico è andato alla riunione di condominio l'ennesima sarà la quinta da inizio anno ad oggi ed io mi leggo tutti i commenti che mi avete lasciato su Instagram e sotto all'ultimo video caricato su YouTube il vlog che ho pubblicato stamani il vlog del ritorno perché voglio vedere se qualcuno ha capito a cosa si riferiva a quello spoiler vediamo un po' iniziamo dai commenti meno recenti breve premessa grazie mille per tutti i messaggi che mi avete mandato che mi state mandando ho sentito proprio il vostro affetto e mi ha fatto un sacco piacere voi non avete idea di quanto piacere mi abbia fatto allora vediamo secondo me cambierete casa farai la makeup artist comunque dopo rispondo anche singolarmente ai commenti che contengono domande agli altri metterò a cuoricino come faccio sempre secondo me quel sogno che si avvererà e di cui parlassi se non ricordo male in un vecchio vlog di qualche anno fa dicessi che quando i bimbi sarebbero cresciuti ti saresti dedicata al tuo lavoro avevi un trolley di trucchi e ti saresti dedicata a quello organizzerai feste e parti sì ma non lavorativamente parlando riguardo al sogno una casa nuova col giardino sognavo un giardino io graziella è già nel mood vlogmas pure io non vedo l'ora sta per arrivare una tua linea di prodotti accessori no secondo me apri un negozio di unghie o di bigiotteria no vediamo anche cosa scrivono gli amici di instagram allora sono indecisa tra una casa nuova con giardino o un tuo studio tipo estetico make up secondo me un negozio tutto tuo batteria scarica dell'orologio comprate casa nuova novità novità lavorative uno studio negozio tuo ci saranno novità lavorative perché da settembre ottobre diciamo perché settembre lo dedicherò penso all'inserimento di Chris all'asilo però da ottobre ci saranno anche novità tra virgolette lavorative niente di eclatante che riguardi i social però insomma cambierò vita diciamo così negozio no un negozio tutto tuo una casetta con giardino secondo me ci sarà una casetta nuova un tuo studio secondo me comprate casa uno studio casa nuova casa nuova va per la maggiore aprirai un centro estetico no allora vediamo ok lei è la stessa ragazza che mi ha scritto anche su youtube allora diciamo che si dai tanti commenti ci hanno preso continueremo ad abitare qua ma la novità sta nel fatto che ve lo faccio dire da Emi che avremo il giardino il giardino è sempre stato un mio sogno non l'ho mai avuto quello che abbiamo preso non è gigante è un pezzettino un pazzoletto di terra però siamo felicissimi non vediamo l'ora di poterlo utilizzare e sarà secondo me bellissimo con i bimbi sarà il completamento di un altro sogno ve ne avevo parlato anche sulla mia pagina instagram nelle domande e risposte a chi mi chiedeva un sogno nel cassetto io 110 settimane fa avevo risposto sogno di avere un piccolo giardino ora bando alle ciance faccio un po' di tapirulan mezz'oretta di tapirulan di camminata né troppo lenta né troppo veloce prima che si svegli Chris sennò poi si scombina tutti i piani ok qua ho lo specchietto retrovisore che avevo in auto quando Chris era piccolino per tenerlo d'occhio quando era girato nel senso contrario di marcia l'ho messo qua così almeno quando è sveglio sto attenta che non salga sul tapirulan quando è in movimento e qua ho posizionato il tablet così adesso mi guardo una puntata di Sex and the City in lingua originale perché da qualche settimana per rispolverare un po' il mio inglese lo sto riguardando tutto in lingua originale appunto per migliorare la pronuncia un po' il tutto diciamo perché il mio inglese fa veramente il kipo non è proprio la serie tv adatta però è una serie tv che ho già guardato un sacco di volte e conoscendo bene gran parte dei dialoghi mi è più mi è più semplice o comunque io ho pensato sia più semplice stasera ceniamo con le galline sono le 19.7 loro sono già a tavola perché Chris si è svegliato malissimo e piuttosto che fargli fare una merenda tardissimo gli ho preparato la cena io mi faccio queste crocchette vegetali ai funghi perché sono in scadenza di solito ne mangio una al giorno però sono in scadenza quindi le faccio tutte e due con un pochino di insalata no vabbè ma stavo guardando delle storie su instagram e mi sono appena resa conto che oggi è San Lorenzo quindi stasera è la sera stanotte è la notte delle stelle cadenti lo sai peccato se sia un po' annuvolato fuori ora vediamo come come procede vediamo un po' cosa dicono le previsioni più che per le stelle perché non so dove stendere la lavatrice che ha appena suonato non so dove stendere i bianchi allora vediamo ok da nuvoloso fino a mezzanotte poi nuvole fino a mezzanotte poi sereno fino a domani quindi ora prendo i miei panni e li vado a stendere su in balcone anche quest'anno abbiamo la grande fortuna di vedere la ruota panoramica dal balcone quello sopra della camera e di notte veramente bellina comunque questa è la lavanderia ve la faccio vedere perché ve l'avevo promesso eccola qua prima era lilla con qua i tre orsetti che lavavano stendevano e stiravano ora è molto molto più sobria minimal direi perché prima aveva degli scaffali in legno classici da lavanderia che io avevo riempito con scatole trasparenti per comodità e che davano un aspetto veramente super caotico super spreciso che mi fastidiva terribilmente quindi a inizio anno ho deciso di rimbiancare tutto cambiare i mobili ho fatto tutto io ho imbiancato smontato i mobili montato questi mobili qua non che ci sia voluta la scienza però insomma sono molto molto soddisfatta qua dietro c'è un quadro elettrico che io ho coperto con questa cornice questa era una cornice che avevo sulle scale non so se vi ricordate con all'interno le foto dei miei nipoti e di Emi e l'ho modificata praticamente ho colorato la cornice esterna con una bomboletta bianca il compensato praticamente il retro del quadro l'ho colorato con questa vernice effetto lavagna e poi sono andata a scrivere con un pennarello in gesso lavanderia lava asciuga piega e ripeti molto molto carino lì c'è una piantina finta qua sulla lavatrice c'è questa cessa con all'interno ceste quasar a pretto telo per stirare ferro da stiro qua c'è anche una confezione di fragranze di il bucato di adeleco ho preso l'altro giorno da scampo li stavano montando lo stand e ho voluto prendere quelle cosine lì lì c'è la mia microasse da stiro e qua ci sono tutti i callax con queste celle ho messo delle celle classiche degli sportelli e qualche cassetto la porta non si apre completamente perché qua dietro ci sono due sedie per gli ospiti per quando siamo tutti numerosi perché siamo super numerosi la scopa e poi qua dentro ci sono le cosine che sto iniziando ad accumulare per il compleanno di emi poi vi farò vedere ecco vi faccio vedere com'era la situazione lavanderia a gennaio terribile direi che c'è stata una bella svolta qua ho creato questo angolino per pile esauste che poi portiamo all'apposito bidoncino barattolino perso ritrovato per tutti gli oggetti che nico dimentica in tasca qua dentro ci sono tutte le pastiglie anti zanzare e là dietro ci sono le capsule che non sapevo dove sistemare e provvisoriamente ho messo lì con un piattino dell'ikea sopra mentre aspettiamo nico e le stelle cadente che secondo me stasera non si vedranno perché è nuovamente tutto coperto prima sembrava schiarire ma è nuovamente coperto giochiamo a rush hour non so se conoscete questo gioco è super carino c'è sia la versione junior che la versione classica se non sbaglio c'è anche una terza versione ma non ne sono sicura è questo gioco qua composto da base quadrata macchinine e carte su ogni carta c'è una sfida si posizionano vedete le macchinine seguendo il disegno e la sfida sta nel far uscire il camioncino dei gelati da questa apertura qua è super divertente le carte sono ovviamente da più semplici a più a più complicate e ci divertiamo un sacco vero Emi? si Emi ovviamente si diverte di più con questo qua junior io con l'altro sul retro di ogni carta ci sono anche le indicazioni che volendo si possono seguire ecco è arrivato anche Pettò eh aiuti il tato non mi serve non mi serve quella vai se gioca con quelle vai brum brum Emi si è arenato con questo schema e non riesco ad aiutarlo incredibile che c'è Chris no quella quella ora non serve cosa fai mangi la mela eh eh si eh si è saltato che è tornato Nico dal lavoro che forse no e ora proviamo così oh yes e mi ce l'ho fatta bellezze io vi saluto mi fiondo in doccia doccia che avrei dovuto fare prima di cena ma che per ovvie ragioni ho rimandato fino ad adesso ora che è tornato Nico mi fiondo così mi rilascio un pochettino mi faccio anche una bella mascherina purificante perché questa zona qua è disastrata la zona che copro con la mascherina è disastrata ma probabilmente l'avrete notato durante tutto il vlog io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao